... Ragazzi, buongiorno. Buongiorno a tutti ragazzi. Sì, oggi siamo in barca, per la prima volta in questa stagione. Eh sì. Dai ragazzi, vediamo un po' se fare un po' di trelandese e poi prendendo qualche pesciotto magari facciamo un po' di trena col vino, chissà. Vediamo se riusciamo. Bene ragazzi, allora ci vediamo in pesca. Bene ragazzi, siamo pronti. L'ho già calato. L'ho calato adesso. Sabbichi. Insomma, ne è pochissimo, ne è tantissimo. E' giusto per adesso. Eh sì. Da ora monto le cose con scandaglio se riesco. E poi la fai sbattere un po' sul fondo. E poi risale e fai... Eh? Ecco. Pesce. Se c'è, è piccolino però. No, non è frugato. Ce l'hai? Sì, vai vai vai. Mi raccomando, quando arrivi qua lo vissi subito in barca. Dai, vediamo che cos'è. Vai, eh eh. Eh, che belle tostate. Allora, l'importante è che non ti emozioni. No, è uno ma è bello proprio. Sì, lo vedo, lo vedo. Alza, alza la canna, alza la canna. Un bel salvo. Un bel suo carrello, ragazzi. Un bel suo carrello. Tirava, eh? Bello, bello, bello. Un bel suo carrello. Dai, scappottilo. Il mio scappotto dell'anno, tailandese. Per me. Guarda, come tirano? Ah. Ma dopo le testate, il mio scappotto, ti tirava la canna. Non va che c'era un altro, tanto che... Ragazzi. Spettacolo. Spettacolo. Mettiamolo subito. Nel secchio. Vai, 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 vai. Vai, vai. Eh, come spriziona questo mulinello. Mulinello. Sì, si sta... Sto vedendo. Un altro sugarello. Sì, bello, sì. Lo vedo. Piano che sei quasi arrivato. Cominci ad alzare la canna. Alza la canna. Sì, sì, un altro, un altro. Ragazzi, già due sugarelli, anche di taglia. Bene. Dove l'hai presso il fondo? Eeeh. Vai, vai, vai. Vai, vai. Pessalo a bordo. Occhio alla mia canna che è dietro di te, Morgan. Sì, un altro. È bello. Mamma, che bello! Lo sg... Ah no, un zuccharello. Si muove uno sgombro. E' che si stava al sistema tuo capace. Ma un po' già la canna. E lo slami. Ce l'hai, ce l'hai, ce l'hai, ce l'hai, ce l'hai. Vai, grande Morgan. Mi sta facendo il culetto oggi. E questo è bello, eh. Questo è bello. Sono due. Tre. Quattro. Ah, hai visto? Hai visto? Non si è slamato proprio niente. Metti la canna come ti ho insegnato. Eh, lasciali. Sono tre sardone, o alacce anche dette. Belle. Peccato che una è caduta. Però non fa niente. Questa c'è bello. Eccolo. Eccolo. Signori, forse ho scappotato anch'io. Guarda, Morgan. Bello. Esci, esci. Questo è più di uno, secondo me. Ma magari è più di uno che ci riesce a scegliere. No, è uno ed è bello, eh. Mi pare, o no? Buh. Sugarello e alaccia. Mamma, che sugarellone. Guarda che sugarellone. Buoglio, là. Bello. Ma qua, questa pasta è un po' di stanguata, perché ne ha due. Piano piano lo slam. Tanto morire, muore lo stesso. Vedete che spettacolo, ragazzi. Le alacce sono veramente fenomenali, come colori. Giusto così, giusto così. Guarda, guarda che sugarello. Mamma, che sugarello. Bello. Più bello che il mio. Di me, certo. Vabbè, dai, dai. Vi vedo, ragazzi. E allora, là c'è uno. Spettacolo. L'ho messa già dentro. Bene, ragazzi, ho scappottato anch'io. La pescata procede. E questo è, questo, o sono tanti o è bello, perché è sprizione. Ecco, lo sto vedendo, è uno, è uno. Ti spriziona così tanto perché è preso male, dalla coda, o dalla pancia, vedi, va? Eh sì. È nuovo. Comunque il murinello, ragazzi, un bel tica. Tica, dico giusto? Ok. Un 6.000, se non mi sbaglio, no? 5.000. Tica, euro, 5.000. L'abbiamo presa al decreto, l'anno qualche mesetto fa. Oggi è la prima uscita, con la canna, una canna K per un 2,10 metri che, diciamo, può portare il piombo fino a 120. È una bella canna di punta, l'azione di punta, bella flessibile, avete visto? Resistente. Una canna economica, con un murinello invece, meno economico, insomma. Ragazzi, pesce, è preso male, mi sa. Mi sa che è preso un po' male. Mi sa che è una bella invece. Guarda come ti tira, guarda come ti tira. Sotto che ti aiuto. Sotto che ti aiuto che sono sgombri. Lascia la canna, lascia la canna. Mamma che sgombri. Caccia le mani, caccia le mani che ti fai le mani. Mamma che sgombri, ragazzi. Non hai visto come ti rava? Ragazzi, guardate che sgombri che ho preso. Mamma mia. Soprattutto questo, ragazzi. Che bestie, che bestie. Mamma a prendere il tempo e facciamo la foto, eh. Mamma sgombri. Non hai visto come ti rava nella fine che mi hanno portato a punta barca? Dove è il tuo telefono? Nel borcello? Mamma sgombri. Ma questo qua che bestie è? Ma becci pro. Fottocamera pro. Che bestie. Guarda lo sangue. Ma questo è bello, sui treetti questo. Pure di più. Poi c'è un nuovo. C'è una libreria, è bellissima. C'è il sole. No. Da qua la persona. Ragazzi, guardate che pescatore, che pescatore. Due sgombri fenomenali. Ragazzi, allora, la pescata è contaminata. Come vedete siamo già in macchina. Comunque è andata bene all'inizio. Siamo partiti po' una volta. Poi diciamo che c'è stato un po' di calma, di quiete. Abbiamo fatto vari spostamenti. Però niente, niente da fare. Però dai, abbiamo perso alla fine undici pezzi, però tutti belli. Vi lascio poi una foto grazie alla fine del video. E che dire, Morgan, tu che ragazzi, come è andata? Per me oggi è andata davvero bene. Soprattutto per quei due sgombri in una sola volta. Mi ha battuto, mi ha battuto. Quindi ragazzi, che dire. Like al video se vi è piaciuto. Un bel commento. E ovviamente iscrivetevi. Iscrivetevi perché ormai ci siamo. Ragazzi, stiamo crescendo sempre di più. Questo video lo vedrete sarà all'agosto. La prima settimana di agosto. E quindi questo, ragazzi. Siamo a giugno, dovrebbe essere all'agosto. Bene. Già fa caldo adesso. Ragazzi, che dire. Un buon mare a tutti, come sempre. Ciao ragazzi.